La scuola dell'infanzia Manfrini, in statalizzazione dall'anno 2021, è organizzata in atelier e spazi di gioco, con materiali destrutturati, naturali e di recupero. Luoghi curati, interessanti, particolari, che offrono ai bambini la possibilità di sperimentarsi, fare nuove scoperte ed approfondimenti con meraviglia e concentrazione. Cucina dal vero, luci ed ombre, cucito, laboratorio scientifico, danze popolari, narrazione, sono solo alcune delle possibilità che si incontrano al Manfrini. L'educazione all'aperto è fortemente sostenuta, nei grandi giardini della scuola ma anche all'esterno della struttura, in relazione con l'ambiente e il territorio circostante. Viene curato con particolare attenzione il rapporto con le famiglie, considerate parte attiva della vita della scuola. Le insegnanti, in equip, col sostegno del coordinamento, progettano e documentano in itinere per stare al passo dei processi educativi che si attivano e restituire a bambini e famiglie il valore dei percorsi.